Ciao, siamo il trio Cavarazzi, io sono Elisa e loro sono i miei fratelli Alessio e Andrea. Ciao, ciao! Siamo un trio d'archi e il nostro repertorio spazia dalla musica classica alla musica moderna, leggera, pop-rock. E noi chiediamo ad Eppela e a Nastro Azzurro un aiuto per avviare la nostra campagna di crowdfunding al fine di semplificare il nostro processo creativo e semplificare proprio tutto il processo di live nostro che abbiamo perché è particolarmente difficile unire il mondo degli archi, semplicemente anche perché si usano due mani per suonare appunto un violino e anche per utilizzare l'elettronica e quindi magari acquistare attrezzatura, quali pedaliere, quali controller particolari per gestire meglio il nostro live set. Inoltre vi chiediamo questa raccolta fondi per la realizzazione di un videoclip della canzone che tra poco sentirete e per la realizzazione di un album di nastrini editi in questa stile. Certo, cerco, cerco... Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì.